Un saluto dall'Enticar. Spazio e divertimento sono le caratteristiche principali di quest'auto, ma vediamo anche tutto il resto. Mitsubishi Outlander 4x4 2012 cilindrata, 5 porte, 7 posti Immatricolata nel 2017, 132.000 km Comandi al volante di Vivo Watch, Bluetooth e Cruise Control Divertente e sostenibile Un 4x4 con anche la possibilità di guidare in modalità eco Mitsubishi, mi stupisci E allora cosa aspetti? Vieni a stupirti anche tu alla Enticar a Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia Scrivi l'Enticar su Google Maps, noi siamo qui ad aspettarti Un saluto a presto Ciao